Ciao ragazzi, buon pomeriggio! Vi faccio questo video e sono qui a una zona di Lucca dove c'è un parco, si chiama Canyon Park, dove praticamente si fanno delle avventure particolari. Io ho fatto questo video perché voglio... sono uscito da poco da questa esperienza e vorrei condividerla con voi perché mi è stata molto d'aiuto. Ovviamente tutto quello che ti sto per dire riguarda degli aspetti che fanno parte della vita di tutti i giorni ma che poi si riflettono anche nel mondo della voce, nel mondo del doppiaggio. Allora parto da questa premessa, ti racconto subito perché è un evento che a me ha aiutato tantissimo e magari potrebbe aiutare anche te. Io soffro tantissimo di vertigini, nel senso... non nel senso, come dice la gente, soffro di vertigini e poi semplicemente soffre di altezza. Ma... gli fa paura l'altezza, ma proprio realmente io quando guardo sotto comincio a sentirmi male, ok? Quindi il caso voluto io volessi venire a questo parco, ero prenotato per andare sui suppe che sono delle specie di canoe e poi il caso voluto è che in realtà io avevo sbagliato la prenotazione e mi sono trovato a dover fare questa avventura. Ormai ero qui e allora ho detto vabbè la faccio, ero con questa persona e ho detto vabbè facciamola. Iniziamo il percorso di prova e fin lì tutto andava liscio perché eravamo attaccati a un muro, era molto semplice e va bene. A un certo punto però arrivo a dover fare un percorso nel quale c'era questo filo che dovevo attraversare e ovviamente ero sospeso in aria, ok? Nel momento in cui io sono arrivato proprio di fronte a questo dirupo nel quale insomma vedevo sotto, un attimo prima avevo paura però ancora la mia testa non aveva iniziato a bacillare. Nel momento in cui ho cominciato a guardare sotto ho cominciato a sentirmi male, tantissimo, al punto che sentivo quasi di svenire. E per me è una cosa normale perché soffro di vertigini e quindi avere questa sensazione è normale, però in quel momento io dovevo venire via, cioè non potevo stare lì. Fatto sta che poi la sensazione che ho avuto era appunto quella di se avessi attraversato ero proprio di cadere giù perché non riuscivo a farcela. Ad un tratto però è arrivata poi questa guida, questa ragazza che ha saputo nel modo migliore prendermi e che cosa ha fatto? Abbiamo iniziato a chiacchierare, abbiamo iniziato a parlare e piano piano io ho iniziato a seguirla, seguendola, seguendola, ovviamente la sto facendo molto breve, però sono arrivato alla fine di questo ponte, insomma di questo ponte sospeso in aria, ok? Cosa è successo? Che io sono riuscito in quel momento a superare questa mia paura e di conseguenza poi ho fatto altri tre ponti che sono riuscito a fare da solo. Poi mi sono fermato a metà perché le mie energie erano andate via, io riesco abbastanza a capire quando il mio corpo dice basta e poi mi sono fermato. Però questa esperienza perché ho voluto condividerla con te, con voi? Perché mi ha insegnato che cosa? Che la testa, la nostra mente, soprattutto in questi momenti, ti gioca tutto, ti fa capire, ti fa percepire la realtà in un modo completamente diverso da come la può percepire anche un'altra persona. Che cosa voglio dirti? Cioè, nello stesso momento in cui io avevo paura di attraversare questo ponte sospeso in aria, c'erano dei ragazzini, c'erano delle donne più giovani, meno giovani, degli uomini, che riuscivano a farlo tranquillamente. Però loro avevano una piena consapevolezza di quello che stavano facendo e lo facevano in un modo naturale, tranquillo, sereno. Invece io avevo questa paura che dentro la mia mente mi bloccava e mi diceva io non ce la posso fare. In quel momento cos'è che mi ha aiutato? Mi ha aiutato proprio a controllare la mia testa e dire Mattia, tu ce la puoi fare, Mattia, tu non sei in un posto nel quale puoi cadere giù da un momento all'altro. Sei attaccato ad una corda, sei attaccato ad un filo molto resistente e ce la puoi fare. Ce la fanno gli altri e ce la puoi fare anche tu. Hai le possibilità per farlo. E questo mi ha insegnato, mi ha fatto capire quanto la nostra mente sia importante e quanto giochi un ruolo fondamentale in tutto ciò che noi facciamo. E io ho voluto superare questo mio limite e ce l'ho fatta perché io soffro realmente di questa cosa, però ho capito che nonostante questa mia paura, questa sofferenza, più che sofferenza, sì, questo mio malessere che io ho naturalmente parlando, comunque attraverso la mia testa io sono riuscito a superarlo. E penso che molti di voi potrebbero fare questo. Questo anche in qualsiasi cosa noi ci mettiamo a fare, anche in un percorso nuovo che iniziamo a fare, anche se magari abbiamo studiato una professione per diventare doppiatori, ci vogliamo buttare il mondo del lavoro, ma abbiamo paura di affrontarlo. Quando dobbiamo parlare con qualcuno, abbiamo paura di dire la nostra opinione, perché per paura delle conseguenze, insomma tutto questo naviga sempre nella nostra mente. Ecco, spero che questa esperienza ti sia stata utile e l'ho voluta condividere con te perché sono qui e sono uscito da poco da questa esperienza e mi sembrava giusto condividerla con voi. Ti abbraccio e se vuoi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!